Io sono stanca di sentire dire questi discorsi da bar, sbattiamolo in galera, chiudiamolo dentro e buttiamo via la piazza. Questo è veramente un pensiero medioevale, superato, obsoleto e vergognoso. Per favore ditelo a tutti voi. Per ascoltare queste cose se le dice una persona al bar che è stata racchinata e dice ti spaccherei la testa, ti farei affettine, non so che. Ma che un rappresentante delle istituzioni mandi messaggi di questo genere è veramente vergognoso. E questo lo fanno anche i partiti di tutti, di destra, di sinistra, fanno a gara, parmai. Chi è più vendicativo, chi è più giustizialista, per cui meditate.